Ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita Italia-Macedonia 0-1. Non so da dove partire, non so cosa dire, mi viene solo da piangere. E' incredibile, è incredibile che meno di un anno fa eravamo a festeggiare tutti una vittoria di un europeo strepitoso e ora ci ritroviamo qui per parlare un'altra volta di un mondiale mancato. L'Italia per la seconda volta non parteciperà ad un mondiale, io non ci credo, ero molto timoroso sulla doppia sfida, temevo anche la Macedonia, molti pensavano che oggi sarebbe stata una passeggiata, invece le partite secche sono sempre rognose, sono sempre imprevedibili, non mi aspettavo di perdere oggi, devo essere sincero, mi aspettavo una partita appunto rognosa come è stata, però in un modo o nell'altro il gol ero convinto che l'avremmo trovato aiutati anche da un tifo pazzesco che hanno fatto a Palermo. Questa è stata una partita, l'ho detto in live, stregata, stregata ragazzi, cioè obiettivamente cosa puoi rimproverare al collettivo? Al collettivo oggi nulla, poi se parliamo dei singoli giocatori posso parlare di un Insigne inesistente, di un Giorginio inesistente, di un Berardi che da un lato ha creato tantissimo, è stato uno di quelli che ha creato di più, dall'altra parte è stato anche molto sfortunato e impreciso, l'errore a porta vuoto nel primo errore urla ancora vendetta ragazzi. Io sono con le statistiche davanti di Google e vi dico Italia 32 tiri totali, Macedonia 4, Macedonia 4, abbiamo perso 1-0, fa male, fa male ragazzi perché vi ripeto oggi la nostra partita l'abbiamo fatta, c'è mancata la precisione e la fortuna, non solo la fortuna, anche la precisione ragazzi perché su 32 tiri totali non puoi farne solo 5 in porta, cioè non è normale che tu ne faccia solo 5 in porta. Poi possiamo parlare sicuramente anche di un'Italia molto sfortunata, non ci è andato bene un cazzo di rimpallo, una deviazione, nulla, nulla di tutto ciò, però i numeri ragazzi abbiamo avuto quasi il 70% di palla, 16 calci d'angolo contro 0, cioè questa è proprio la classica partita maledetta, dove se la rigiochi altre 100 volte probabilmente la vinci 99, è incredibile ragazzi, io non so cosa dire, non so cosa dire, sono sotto shock sportivamente parlando ragazzi ovviamente, mi dispiace tanto perché abbiamo già vissuto un mondiale da spettatori, non è la stessa cosa, e pensare che ancora una volta l'Italia, l'Italia quattro volte campione del mondo, debba stare sul divano con i pop corn a guardare la Macedonia a giocare ai mondiali, mi mette una tristezza e una rabbia incredibile, piccola critica ragazzi, ragazzi anche a Mancini, io capisco la comunicazione, tutto quello che volete, parlo del CT Mancini, ma tu puoi venirtene fuori a due giorni prima di una partita così importante, a dire, eh no, noi vogliamo vincere il mondiale, ma pensa a qualificarti, ma pensa a qualificarti prima, come cazzo fai ad uscirte non quelle dichiarazioni? Non lo so ragazzi, io non so davvero più cosa aggiungere, ditemi voi cosa ne pensate, è rammarico e incredibile, perché l'altra volta quando siamo usciti con la Svezia, io ero a San Siro e ricordo perfettamente la delusione tremenda al triplice fischio finale, quell'Italia lì creò tanto, ma non tanto quanto abbiamo creato oggi, e vi ripeto, essere fuori è veramente una roba, una roba incredibile, io forse ancora non sto realizzando, va bene, peccato, peccato perché una sconfitta per l'Italia calcistica, anche per l'Italia che lavora tramite i mondiali ragazzi, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, va bene, per adesso è tutto ragazzi, buona serata e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, ciao ragazzi!